A Edward. Il conte di Wessex, era stato precedentemente promesso di succedere a suo padre come duca di Edimburgo una volta che il principe Carlo fosse salito al trono. Il principe Edoardo potrebbe perdere il titolo promesso a causa dell'intenzione del re di restringere il campo della monarchia. Si ritiene che la defunta regina abbia concordato con il figlio maggiore che il conte di Wessex sarebbe succeduto come nuovo duca di Edimburgo una volta che Carlo fosse diventato re. Parlando dell'ultimo episodio di Palace Confidential, l'assistente al montaggio di The Mail on Sunday, Kate Mancy, ha bollato il re come abbastanza cattivo per aver potenzialmente rinnegato la promessa fatta al fratello minore. La signora Mancy ha detto alla conduttrice Joe Elvin, sentiamo così tanto, vero, di re Carlo e quando diventa re e ora è re. Ovviamente, avendo una monarchia snellita. Parlando delle uscite reali del principe Andrew e del principe Harry, ha aggiunto, alcuni di questi sono avvenuti quasi per caso, in un certo senso, per il modo in cui le cose si sono svolte. Quindi sembra piuttosto meschino non fare di Edward un duca di Edimburgo. Punto punto. L'editore del diario del Daily Mail, Richard Eden, ha aggiunto, a livello umano, come si sentirebbe qualcuno di noi se sapesse che il suo amato genitore le ha promesso qualcosa, e l'ha messo per iscritto, e poi le viene detto scusa, non puoi avere quello. Ha aggiunto che non è chiaro se gli importi o meno ma è qualcosa che ti farebbe sentire meglio. La signora Mansi ha aggiunto che il modo in cui le è stato presentato mostra che è stato notato dal conte e dalla contessa di Wessex, ma hanno deciso di non parlare. Ha aggiunto, sono troppo aggraziati per dire qualcosa, ovviamente pubblicamente o forse anche in privato, ma penso che sia un affronto. Al principe Edoardo è stato concesso il titolo di conte di Wessex al suo matrimonio nel 1999, con sua moglie Sofì conosciuta come la contessa di Wessex. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.